Diciamo che si rischia, altrimenti si rischia anche situazioni... E qui Teodosic, forse... Si intenta un numerillo che poteva buttarla sul tabellone e riprenderla. Ecco, sono d'accordo con Stariolo, a questo punto lo togli. Ti butto lo togli, c'è gara a due, hai fatto il tuo, sei tornato, hai fatto tutto bene. Gli applausi sono meritati. Brindisi probabilmente non meritava un passaggio sul tabellone. Così. Non mi sarei intassato molto. Infatti, Stariolo lo toglie per evitare qualsiasi tipo di problematica, anche perché è una serie.